Roberto Rosetti entri a far parte della Hall of Fame del calcio italiano, se ti guardi indietro qual è il momento più alto della tua carriera? Forse la finale di Euro 2008 a Vienna? Beh sicuramente quello è stato diciamo il momento più, forse l'apice della mia carriera però io credo che un arbitro dal momento che comincia in ogni caso dalle categorie giovanili del settore giovanile, ogni obiettivo, ogni categoria raggiunta diventa veramente un momento indimenticabile per cui anche l'esordio in Serie A, l'esordio a livello europeo, l'esordio anche in promozione in prima categoria sono stati dei momenti bellissimi e chiaramente essere in questo contesto è assolutamente inaspettato perché quando un ragazzino comincia a fare l'arbitro sicuramente non potrà mai immaginarsi di raggiungere questo obiettivo, questo sogno. Prima di te sono entrati nella Lofheim, Collina, Agnolin, Casarin, Gonnella, Gussoni e Braschi ce n'è tra questi uno al quale ti sei ispirato per la tua carriera? Ma io credo che stiamo parlando veramente di nomi incredibili dell'arbitraggio italiano e dell'arbitraggio anche mondiale. Io credo che l'ispirazione, un giovane arbitro la debba prendere un po' da tutti. Credo che bisogna cercare di rubare qualcosina da tutti. Io ho avuto la fortuna di lavorare con tanti di questi grandi arbitri, con Pierluigi Collina e a tutti loro cercavo di apprendere qualcosa perché ogni giorno veramente c'è qualcosa da imparare e ogni giorno bisogna mettersi in discussione per migliorare. L'ultima cosa, spesso si dice di un calciatore che quando smette la nostalgia dell'adrenalina del campo vale anche per un arbitro la mancanza dell'attività agonistica? Vale sì, per quanto mi riguarda l'ho vissuta un po' a scoppio ritardato perché subito, devo dire la verità, è stata quasi smettere, è stata quasi una sorta di liberazione. Non fraintendetemi ma sicuramente avevo bisogno di stare con la mia famiglia, di stare con i miei amici di vivere le cose normali. Sicuramente, però poi mi è successo dopo un po' di tempo, dopo un anno, di avere una forte nostalgia, una forte mancanza delle sensazioni del campo, degli allenamenti, della preparazione della partita, di stare con i miei colleghi. Bisogna essere bravi in quel momento di guardare avanti, guardare il futuro, rimettersi di nuovo in discussione perché non si può pensare al passato ma bisogna pensare al futuro. bisogna anche avere la forza e il coraggio di lavorare, di studiare e di proporsi per una cosa diversa.